Fornivano lavoratori dell'est Europa, Romania innanzitutto, ad aziende edili che operavano in Belgio, uomini sfruttati, senza diritti, trattati come schiavi. Questi i dettagli più inquietanti della maxioperazione condotta dall'Europol con la collaborazione in Italia e in Veneto della Guardia di Finanza. La Polizia Federale belga ha accertato insieme agli ispettori della sicurezza sociale che i dipendenti di queste imprese italiane erano costretti a lavorare per più di 12 ore al giorno, venivano sottopagati ed erano costretti a dormire in più persone in veri e propri capannoni industriali. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti così degli imprenditori veneti, uno di Cittadella nel Padovano, due Trevigiani di Ausolo, uno di 49, l'altro di 61 anni. I due soggetti sono sospettati dall'autorità belga di aver costituito un'organizzazione dedita al distacco illecito trasnazionale di mano d'opera, al riciclaggio e allo sfruttamento di lavoratori. Entrambi sono sospettati dall'autorità belga di aver costituito in Italia, Croazia, Romagna e Slovacchia società prive di una reale operatività a vere e proprie scatole vuote che avevano l'obiettivo di evitare il pagamento di contributi sociali e previdenziali in Belgio. In tutta Europa, comprese Spagna e Slovacchia, sono state effettuate 34 perquisizioni, sequestrate 32 auto di alta gamma, molte proprietà immobiliari, 350 conti bancari, 400 mila euro solo in contanti. È un fenomeno estremamente delicato soprattutto in questo periodo, in questo contesto storico caratterizzato da un'emergenza pandemica e su cui la Guardia di Finanza investe molte delle proprie risorse per le attività di contrasto.